ma buonasera due lanti neos armato scusate ma nel video che avevo messo prima magari qualcuno ancora non aveva visto madonna di dio ma ogni tanto quando quando mi ci metto sono veramente un coglione cioè sono un coglione normal però certe volte dio porco mi supero allora in questo video vediamo il deck neos della guarmato da giocare nell'evento delle fusioni xyz e test di cazzo allora non avevo letto madonna porco d'immagino che cazzo ha visto quel era arrivato tipo una cinquantina di visualizzazioni che cazzo ha visto quel video ha letto che non ve lo dico lasciamo perdere allora porca madonna prima di iniziare il video link in descrizione del canale telegram se volete entrare ed essere fighi quanto questa volta lo dico il neos armato carta madonna devastante fortissima attiva l'effetto solo se spacca un mostro in battaglia intuite nell'altro video che le cazzate che dicevo porco dio molto più del solito 3 per di neos 3 max un re delle paludi 3 drag armato tuono 3 custodi della magia 2 drag armato tuono 2 livello 7 e 2 palo e 2 livello 10 bianco mamma mia fortissimo questo deck tende di auticapare il nostro avversario se sta fermo cosa polimerizzazione rinforzi ultra polimerizzazione fusione neos 2 per di fulmine drago armato richiamata la tromba lampo armato e 3 in permanenza infine nell'extra deck ho messo tutte fusioni che si possono evocare con il neos armato dopo che attivi il sfeff e senza che fanno che spaccino l'abbè nell'altro video di giuce non volevo dirlo però lo dico tanto siamo fra amici poi non avevo letto che questa carta spacca un mostro per attivare l'effetto, io ero lì che dicevo, ma perché non evoca, ma mamma Konami di merda, c'è sempre una spiegazione, porco Dio c'è sempre una fottuta spiegazione per tutto quello che succede all'interno di questo gioco, mamma mia che testa di cazzo, si si si, proprio un coglione patentato, un deficiente, un fallito, a certe volte me lo dico anche da solo, fallito poi sappiamo tutti chi è, allora ci facciamo qualche partita, vediamo un po' com'è che funziona questo deck, è abbastanza carino perché ti mette i mostri giganti e ti può uticappare nel secondo turno con una mano decente, ma ovviamente poi dipende dall'avversario che cazzo gioca, cosa fa, che mosse fa, siamo tutto là, allora faccio iniziare per secondo, tizio, io voglio mettere, a parte che voglio non si dice, però vorrei mettere una cazzo di tipo di filtro, è porca madonna, schifosa di merda, bruciata viva, Dio porco, vabbè fa niente, tipo che becco solo gente dell'Europa, io non voglio beccare gente che si mette sti nomi, porco Dio, allora che mano carina cazzo, per il secondo turno però, Dio porco, era una mano forte Dio, cioè forte, era una mano carina, allora evochiamo il custode della magia dei draghi, mettiamo l'effetto, scartiamo il Neos elementare che tanto poi, cioè andiamo a ribornare col suo effetto, e ci prendiamo la fusione Neos, ecco blas, e fa blas, c'è sempre blas, Max, Max Cis, Max, male Max, male Max, perché così facendo pescare parco 2, che palle, vabbè fa niente, fa niente, andiamo ad aggiungere subito immediatamente la fusione Neos, e in questo caso sai che ti dico, sai che ti dico, tizio cinese, Massi, vabbè, spregati ma c'è, dai, otk, fai uccellino, uccellino, aggiungo uccellino, equipaggio un uccellino, otk, dai, vabbè, ci sto, dai, non vedo l'ora, non vedo l'ora, tanto sicuramente sarà così, sarà numero, peggio ancora, numero un picchio picchio, sarà labrinto, qui il labrinto si può giocare, non lo so, alla fine sì, forse c'è qualche artabandita, che cazzo è? Tiara Elementa, Tiara Elementa, Tiara Clis, ma pure qua, ma pure qua nell'evento Cis Fusione, beh, giustamente, nell'evento Cis Fusione, si può giocare, bene, molto, molto bene, grazie Mamma Konami per questa bel matchup favorevole, perfetto, gioca pure i Beast, al clamoroso, me lo penso, io al cimitero c'ho un bel Neos raleventale pronto per essere rimosso, ah, beh, peggio ancora, mi sai che mi ha otticappato, Dio porco, mi sai che mi ha otticappato, Dio schifoso canne, eh, che due coglioni però, però che due palle, pure questo, no, questa non è, che due coglioni, ma mi hanno rotto i coglioni, porco Dio, che poi alla fine, vabbè, questo evento che cazzo vuoi trovare, qua hanno messo a uno, cos'è che hanno messo a uno? Il Drago, lì, com'è che si chiama? L'Ubelion, no, non L'Ubelion, l'altro Albion hanno messo a uno, che tanto lo fai una volta e basta, Piercura, anche questa ovviamente, limitata a uno, grande, fortissima, cosa mandi, piccolo bastardo, cosa mandi, mandi un tiara-clac-clac-click elementi, eh, pezzo dei ca... Ma dai, ma stavo andando bene la team, fino a dieci secondi fa, porco Dio, che cazzo gli prende, proprio adesso che mi son messo a registrare, morto Gesù bastardo, dai però, che sfiga, vi giuro che è andata bene fino a poco fa, o è lui che sta scegliendo cosa mandare, ma non penso proprio, questo che ha mandato, Saronir, Saronir amico, quindi vuol dire che fa l'Ubelion, vabbè, no, fa il Tiki-Taka, il Drago di Cenere, perfetto, bel, bel 4000 classico, e poi c'è il cimitero, quello lì, che manda, ok, va bene, basta che ti muovi però, tizio con gli ideogrammi, fa il bravo, dai, fa il bravo, non mi direi che c'è in mano un altro, dai, dai che non ce l'hai in mano, vabbè, però c'è in mano questa, fatemi fare due calcoli, allora, mandando questa, manda quella merda lì, ok, quella merda gli fa fare la fusione, però può fare un'altra fusione, secondo me fa una, non, secondo me non fa Tiki-Taka lì, ma si può giocare Tiki, come cazzo si chiama, Kiriakopoulos, o forse fa qualcosa di più, di più brutto, molto probabilmente, no, non lo so, cosa fa, dai, oh, ciccio, ciccio bello, ciccio bello, fai che pranzi, porco Dio, ciccio bello, lo pianale, manco fossi te, sì, te, amico mio, però, dai, devi essere un po' celere nelle tue azioni, stavolta la team non c'entra, dai, porco Dio, ha fatto Kiriakopoulos, sì, ha fatto Kiriakopoulos, Kiriakopoulos si va a prendere un'altra cosa, mi fa il 3000, mi ha oticappato, sì, mi ha oticappato, no, no, attenzione, fa l'Ubelion, va bene, mi ha oticappato lo stesso, perfetto, io non posso, non posso passare un turno, così, un turnino, dice, vabbè, quello mi ha mascherato Maxi, cazzo, se attivo la fusione Neos, se Reborno Neos, si fa un più uno, dai, passo, dai, non mi oticapperà, Gesù Cristo maiale, e invece Gesù Cristo maiale, è proprio un maiale Gesù Cristo, quando ci si mette, cioè, un turno chiedevo, cioè, ma affanculo, la madonna, puttana di Dio schifoso, ciccio bello, ciccio bello, napoletano, cosa, chi, ti muovi? Vabbè, affanculo, intanto l'evento l'ho già finito, ma ammazzati, vai a cagare, merda umana, tre ore per fare una cazzo di mossa e adesso non era la connessione, brutta merda. Allora, con calma, non insultiamo gente a casa, in realtà, sto evento non ha più senso farlo, perché non mi dà più diamanti, però, dettaglio, siccome, poi ci rivediamo probabilmente lunedì, che domani e dopodomani non penso di riuscire, Michael, ciao, non penso di riuscire a registrare, quindi, almeno oggi, non cazzo di video, facciamo, cioè, nel senso, già quella che avevo messo prima era scandaloso, ma dettaglio, 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 ormai è passato, ormai è scialacquato, è fuito l'attimo, ok, sono iniziato per secondo con due Neos in mano, porco Dio, con due Neos in mano, cioè, la mano di prima era fortissima, solo che sono un partito, io mi sono preso l'OTK, perché mi sono bloccato grazie a Max Vabbè, vabbè, evoca il coglione, vabbè, va benissimo, it's not the problem, mother father, mother father, sì, cosa da aggiungere, vediamo un po' se indovino il 4000, no, forse quello che di mezzo ai life points, quello fuoco, che non, no, metallion, attenzio, però fuoco la voce, cazzo, va bene, adesso che cazzo vuoi fare, ciccio bello, ciccio bello, cosa fai, evoca i metallion passo, dai, a parte che se non si attao, questo camion wizard di qui, che cazzo faceva, niente, vabbè, dopo ti faccio in permanenza, ti provo di cappare, se pesco una cazzo di fusione Neos, posso, posso di cappare, fammi pensare, lampo, drago armato, non ho di capponcazzo, devo pescare polimerizzazione, polimerizzazione le konami, please, polimerizzazione, please, maxi, porco dio maxi, porco dio maxi, porco dio maxi, venti carte utili nel mazzo che posso pescare, porco dio pesco maxi, inutile come la merda, contro questo deck di merda, del porco di dio, del porco di dio, mi dà proprio fastidio giocare in queste situazioni, porca madonna, puttana merdosa, lesbi, no, porco dio, porca madonna, dio porco, maledetto, schifoso, poto pescare 25 carte diverse, 25, i cussodi dei porca madonna, le polimerizzazioni a dio merda, tutto poto pescare, tranne maxi, la carta è più inutile in quel momento, mamma mia ragazzi, la sfiga che aleggia, mamma, oh questa mosca di merda, porco di mare, da dove è entrata, porco dio sta diruviando fuori dio ca, allora, ho una mano decente, c'è sempre sto cazzo di neoso in mano, che in teoria uno va bene, ma due no, questo che cosa gioca, porco, come dire, le merda di traptrix, ti prego, fammi il favore, dio ca, fai anche tu mostro passo, che almeno adesso ho una mano un po' più decente di quelli, che verso era, che palle, porco dio, mi direi che ho in mano pure l'altro direttamente, no, eh beh, sì, sì, praticamente, oh shisho belu, porco dio, shisho dio, porco, eh vabbè, mi cala, aspetta, però c'ho impermanence, I have impermanence in my hand, my friends, ma porco dio, ma porco dio, ma dio porco, ma porca madonna, ma perché ti arrende adesso che non mi serve a niente, adesso che non mi serve a niente, mi danno il coupon eredità, adesso andiamo a sbucciare il coupon eredità, basta, mi sono rotto il cazzo di giocare contro gente di merda, porco dio, uno mi tk, uno si arrende, l'altro pescomaxi, che non mi serve a niente, allora fammi vedere qua, fammi vedere qua cosa mi dà, dai, mi ha dato, aspetta, aspetta che c'ho ancora un coupon speciale qua, mamma mia, vediamo insieme cosa ci dà, vediamo un po' una bella UR, che ne pensi, perfetto, un SR, Nino, lo specchio che lo pia al culo, bono, bella, bellissima carta, aspetta, qua ho ritirato tutti qua, dove sono i coupon eredità de merda, i coupon del cazzo, dove sono, ecco, ne ho 30, vediamo un po' cosa troviamo, non ho mai fatto sbucciare di queste qua, perché vabbè, fanno schifo le carte che escono, infatti, allora, un eroe elementare, mica Electrum, mi ha dato due SR, che non potrò spaccarmi, non potrò usare, perfetto, mi ha dato l'uccello del porco dio, grande, andiamo a vedere l'ultima carta, invece, avanzato oscura, forte, cazzo fa, non lo so, minchia, bestia embrionale, tanta roba, un mostro imperfetto che risucchia nemici di ogni misura con i vorti generati dal suo addome, questa bellissima, carta bellissima, salitore oscura, guardate che figa, questo sinistro assassino, armato dalla spada, minchia, pendolo della tortura, me lo ricordate, fortissimo, non so nemmeno io cosa cazzo sto facendo, porco dio, ma che video di merda, dio cane, peggio del solito, vabbè, niente, ci vediamo nel prossimo video ragazzi, probabilmente lunedì, ci vediamo, buon weekend, fate i bravi, non fate cose losche, cose strane, anzi, fatele che è meglio, bella a tutti, the next video is Monday, Monday, Saturday, Tuesday, Wednesday, porco dio, bella a tutti